Giornata toscana per il ministro Dario Franceschini accompagnato dal presidente della regione Eugenio Gianni un viaggio nel segno della riscoperta delle città d'arte più piccole di luoghi paesaggistici unici ma poco conosciuti considerati solo a torto, Toscana e Italia minore, che invece potrebbero attrarre turisti da tutto il mondo. Prima tappa a Montelupo Fiorentino tra le sedi con la Villa Medici e Ambrogiana del progetto degli uffizi diffusi che vorrebbe vedere le gallerie allargarsi all'interno del territorio regionale. È evidente che qui ci serve un grande progetto nazionale per le dimensioni, per le risorse che servono non può essere messo sulle spalle solo del comune o della regione toscana quindi siamo qua insieme per mettere insieme energie, speriamo risorse per farlo diventare un grande progetto di recupero di un luogo splendido, una Villa Medici splendida un uso culturale, c'è una bella idea su cui stiamo lavorando, sta lavorando il direttore degli uffizi di avere una parte delle opere degli uffizi qua, è un progetto su cui stiamo lavorando anche perché molte delle opere che sono nei depositi erano qua però non si possono annunciare cose sicure se prima non si hanno le risorse per farlo quindi adesso lavoreremo insieme, siamo già d'accordo, in parte la regione, in parte lo Stato e ovviamente il comune per immaginare sia la destinazione che per reperire le risorse per quello che è veramente un grande progetto del paese è la prima volta che un ministro dei beni culturali viene qui, si rende conto, ci ragioniamo insieme e quindi io ringrazio il ministro Franceschini perché intorno a questo luogo, all'Ambrogiana la villa preferita da Ferdinando dei Medici che si fermava qui con il suo traghetto dagli uffizi attraverso l'Arno faceva la tappa in permedia per andare al porto, a Livorno ecco che può trovare davvero una destinazione culturale che dà il senso di Uffizi Toscana che nella collaborazione fra comune e tutti i comuni dell'Empolese ma Regione e Ministero dei beni culturali dà una nuova visione al turismo e alla cultura proprio nella nostra Toscana e poi Vico Pisano con il camminamento unico al mondo, da poco restaurato e inaugurato e infine a Volterra dove gli scavi stanno a poco a poco riportando alla luce un gigantesco anfiteatro romano